oh non si può fare la pasquetta dai distanziatevi andate nelle case hai ragione ha sicuramente ragione perciò mi sono consultato con i miei compagni voglio ma c'è me stai picco il culo a me ma vabbè fai tu trappi beh e questo è la casa di carta la casa di cazzo la carta igienica la casa di carta igienica ma c'è t'affanculo c'è te ehi tu io sono a tokyo e siamo rapinatori professionisti tokyo c'è tokyo ma tu sei vendermiare tokyo e io sono un giovac mandiamo i carabinieri ma li mandiamo con il lanciafiamme ma non è pure chi sta neppure dove sta la casa di carta va a fangolo e tutto il mondo ma non è fangolo la casa di carta igienica l'autocertificazione ce l'hai? ma vedi che gli altri anni non me l'hanno chiesto